Salve a tutti, ebbene sì, la legge di bilancio è finalmente stata approvata ed è appena stata pubblicata in gazzetta ufficiale quindi abbiamo delle informazioni certe, definite, su quello che sarà il futuro della vita, del Superbonus 110 e di tutti gli altri bonus fiscali all'interno di questo video ti spiegherò però quali sono le 5 principali novità previste per il 2022, 2023, 2024 e 2025 quindi non perdiamo altro tempo, metti mi piace e cominciamo ce l'hanno fatta penare però adesso possiamo dirlo con certezza la legge di bilancio è stata approvata, è stata pubblicata in gazzetta ufficiale e all'interno della legge di bilancio troviamo gli emendamenti proposti che vanno a modificare la normativa relativa al Superbonus 110 tra le modifiche che attendevamo con più ansia c'era sicuramente quella legata all'aspetto temporale ossia relativa alle scadenze e alle proroghe del Superbonus e all'interno della legge di bilancio abbiamo ufficialmente una proroga per il Superbonus al 110% fino a fine 2022 per ciò che riguarda gli edifici unifamiliari o edifici funzionalmente dipendenti con accesso autonomo fatto salvo che questi debbono raggiungere entro il 30 giugno un SAL al 30% che cos'è un SAL? non ti preoccupare lo vedremo in un video dedicato prossimamente sul canale quindi se non te lo vuoi perdere iscriviti al canale e attiva la campanella così da non perderti il video appena uscirà per le abitazioni plurifamiliari da 2-4 unità abitative unico proprietario e per i condomini abbiamo una proroga un po' più lunga abbiamo fino a fine 2023 quindi fino al 31 dicembre 2024 ma poi abbiamo ancora altri due anni di proroga quindi nel 2024 la detrazione passa da 110 al 70 mentre nel 2025 la detrazione scende al 65% altra proroga e modifica importante ce l'abbiamo con il bonus facciate perché passa dal 90% come preventivato al 60% con scadenza fino a fine anno quindi sì il bonus facciate è quello che è stato mazzulietto di più proprio a causa dell'enorme quantità di truffe e dell'abuso che è stato fatto di questa detrazione altra novità che tutti attendevamo è stata la proroga dello sconto in fattura e della cessione del credito ossia quel meccanismo che permette di cedere, vendere e monetizzare i crediti fiscali frutto di interventi che possono essere al 110, al 50, al 65, all'85% quindi per tutte le detrazioni fiscali legate al mondo delle riqualificazioni edilizie ovviamente vi sarà la possibilità di cedere il credito o di richiedere lo sconto in fattura da parte dei fornitori questo nel concreto significa avere uno sconto immediato della percentuale di spesa detraibile oppure la possibilità di recuperare parte dei capitali in tempi nettamente più brevi infatti se prima decidevi di acquistare un impianto fotovoltaico da 10.000 euro la cui detrazione è al 50% quindi 5.000 euro la recuperavi in 10 anni adesso quei 5.000 euro puoi o ricevere direttamente lo sconto in fattura quindi pagare al netto solo 5.000 euro oppure quei 5.000 euro lì potrai venderli alla banca, all'istituto di credito, alle poste che te li monetizzerà, ti farà un versamento con una relativa trattenuta tendenzialmente del 20% che sono ovviamente i suoi margini se vuoi sapere bene come funziona sconto in fattura e cessione del credito e quali sono le principali differenze ti invito a recuperare un video che ho registrato un paio di mesi fa te lo lascio in descrizione qua nelle schede e sempre in descrizione ti lascio il video confronto tra tutti quelli che sono gli istituti di credito per capire anche lì nell'ottica della cessione del credito dove conviene cedere il credito queste sono le principali modifiche, aggiornamenti che troviamo all'interno della legge di bilancio ma abbiamo 5 aspetti del tutto nuovi che vanno un pochettino ad ampliare ovviamente la platea dei beneficiari e ad ampliare anche il parco interventi che si possono realizzare e su cui puoi richiedere la detrazione al 110% quindi sì abbiamo le proroghe sugli interventi quindi con il super bonus eccetera eccetera le proroghe sull'aspetto fiscale quindi sulla cessione del credito e sconto fattura ma abbiamo altre 5 novità importanti prima novità importante che è bene considerare la detrazione fiscale non è più in 5 anni ma è in 4 quote annuali quindi qua troviamo già un aggiornamento, una modifica abbastanza importante scontata per chi è nel settore ma comunque la detrazione fiscale per le opere super bonus 110, eco bonus e sisma bonus non è più in 5 anni ma è in 4 quote annuali di pari importo questa discrepanza qua era già venuta fuori un paio di mesi fa quando si parlava di questo fantomatico sale al 30% da realizzare entro fine anno proprio per evitare incongruenze tra quote in 5 anni e quote in 4 anni con la legge di bilancio abbiamo avuto questa conferma cioè tutte le spese sostenute dal 1 gennaio 2022 saranno detraibili al 110% qualora soddisfassero ovviamente i requisiti in 4 anni seconda modifica importante è quella che mi riguarda più da vicino che vi ho già accennato all'interno del video spoiler dedicato alla legge di bilancio ossia che è prevista la possibilità di ottenere il super bonus 110% su edifici unifamiliari fino al 31 dicembre 2022 quindi c'è un anno di tempo su edifici unifamiliari che verranno demoliti e ricostruiti quindi non c'è il vincolo del sale al 30% ma per questi edifici qua abbiamo una scadenza fino a fine anno ed è il mio caso fortunatamente l'intervento di demo ricostruzione è quello definito dall'articolo 3,1 lettera D del testo unico dell'edilizia quindi delle caratteristiche ben precise non si parla di ah sì butto giù il tetto rifaccio il tetto è una demo ricostruzione no non è così e ti invito ovviamente come sempre a fare riferimento al tuo professionista di fiducia al tuo architetto il tuo geometra il tuo ingegnere che dovrebbe conoscere la normativa e che potrà darti supporto in questo terza modifica importante che non era scontata ma che mi preme evidenziare è legata al fatto che gli interventi trainati come i serramenti, il fotovoltaico, le colonine di ricarica e così via legati al mondo del risparmio energetico e gli interventi trainati che possiamo farli rientrare nell'ambito edilizio quindi le barriere architettoniche, il monitoraggio strutturale del discorso sisma vengono anche esse prorogate e allineate a ciò che è la scadenza del super bonus infatti nei vecchi decreti dedicati al super bonus c'era una discrepanza tra interventi trainati sulle parti comuni, interventi trainati quindi c'era il rischio di non poter fare il fotovoltaico e così via hanno allineato tutto così come hanno allineato le scadenze per ciò che riguarda la sconto in fattura, la cessione del credito, le hanno allineate con le detrazioni e quindi anche qua è una modifica importante che mi preme evidenziare terza modifica è l'ampliamento della platea perché troviamo tra le realtà che possono sfruttare super bonus anche cooperative e onlus queste hanno delle scadenze diverse che vedremo in un video dedicato proprio alle scadenze di tutti i vari incentivi ma è un ampliamento della platea quindi se sei una cooperativa o un onlus potrai sfruttare super bonus 110 anche per te mentre rimangono esclusi ovviamente tutte le aziende, le partite IVA e così via c'è una prorga fino al 2025 quindi una prorga molto importante del 110 per tutte le zone sismiche del terremoto dell'aprile del 2009 quindi le zone dell'Aquila e dell'Abruzzo quella zona lì tutti gli interventi realizzati all'interno dei comuni che sono stati oggetto di questa emergenza, di questo sisma del 2009 potranno ottenere super bonus 110 fino al 2025 senza particolari distinzioni altra modifica legata al mondo del sisma bonus è relativa al sisma bonus acquisti ossia la possibilità di ottenere un super bonus 110 nell'acquisto di una casa che viene demolita e ricostruita ma dall'agenzia immobiliare anche qua è un aspetto complicato e vedrò di fare dei video di approfondimento questo vuole essere solamente un video introduttivo di comunicazione di ciò che sono le principali modifiche che ho trovato all'interno delle leggi di bilancio come anticipato in futuro creerò dei contenuti, dei video di approfondimento settoriali che vanno proprio a definire ciò che riguarda il sisma bonus ciò che riguarda la demo di costruzione, il sala al 30, i computi metrici e così via spero di aver riassunto un pochettino quelle che sono le principali modifiche e novità normative lascia un bel mi piace se hai trovato utile questo contenuto iscriviti al canale se non ti vuoi perdere altri video e continuo a seguirmi su tutti i social pagina facebook, gruppo facebook e pagina instagram dove quotidianamente vado a commentare ovviamente tutti quelli che sono gli aggiornamenti normativi condividi questo video se è stato utile e noi ci vediamo nel prossimo video ciao ne ciao Grazie a tutti.